Dunque, parliamo di moda, parliamo di altissima sartoria, parliamo di miliardi, perché diciamo pure che intorno all'alta moda, maschile o femminile, girano miliardi, la bilancia dei pagamenti in Italia si avvantaggia, no? Se non sbaglio. Sono esattamente 8 mila miliardi, quest'anno 8 mila miliardi in attivo. 8 mila miliardi in attivo. La seconda voce in attivo. Per il fatto che voi esportate molto all'estero? Sì, esportiamo, facciamo delle promozioni e aiutiamo così il governo che del resto non fa niente per noi. Chi non fa niente per noi? Il governo. Il governo? Nel senso che vestono male? No, anche forse, non lo so, non li va di giudicare come si vestono. Qual è il momento più bello della sua creatività? C'è un momento in quale lei ha detto, ah che bello, ho inventato, ho disegnato una, eh? Quando per la prima volta ho fatto un pantalone di pelle con una camicia di seta, allora mi sono sentito un creatore di moda, perché tutti hanno copiato questi pezzi, questo contrasto mi ha fatto sentire un creatore di moda, perché è stato copiato da tutti. Cioè il pantalone di pelle è come quello che stai inquadrando in questo momento? Sì, o come quello che porta a pannella. O come quello che porta. Sì, o come quello che porta a pannella.